ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questo nuovo unboxing eccezionalmente di venerdì perché appunto sono arrivati un po in ritardo questi pacchi e quindi però non potevo assolutamente aspettare per spacchettarli anche perché sono belli grandi comunque direi di non perdere altro tempo prendiamo il nostro fedelissimo logan chiaramente ci mettiamo un bel pacco qui sulle ginocchia senza far cadere tutto possibilmente e andiamo a vedere di cosa si tratta ragazzi questo qui dovrebbe contenere un solo arrivo se non sbaglio poi invece l'altro dovrebbe contenere un po più di roba e infatti e infatti è così allora lo poggiamo un attimo qua ragazzi eccoci qua e andiamo un attimo a vedere il contenuto e ragazzi qui c'è un arrivo molto molto figo eccoci qua andiamo a spacchettare il brown box con molta calma e attenzione ovviamente senza rovinare nulla per carità e andiamo a vedere chi si nasconde all'interno di questo brown box eccoci qua allora ragazzi scartiamo perché questo è un arrivo abbastanza grosso un arrivo abbastanza grosso credo ormai già esaurito in realtà dal fornitore questo mi è arrivato su prenotazione cioè l'ho prenotato per uno di voi ok ce la facciamo perfetto eccolo qua con tutta calma fuori dal brown box abbiamo questo che dovevo assolutamente almeno farvi vedere nell'unboxing non credo riuscirò a recensirlo perché appunto chi l'ha ordinato non mi ha dato il permesso io non mi permetterei mai di recensire cose senza permesso abbiamo ragazzi questo fantastico Zoro Warriors Alliance per la linea P.O.P. dedicata a One Piece ovvero la linea diciamo di punta di statue dedicate a One Piece fatta dalla Mega House penso che la conosciate tutti fighissima ragazzi questa questa ho rischiato di prenderla anch'io perché Zoro è il mio personaggio preferito in questo outfit particolare mi piace veramente un sacco anche perché gli si addice particolarmente essendo un outfit da samurai poi la confezione ragazzi questa veramente splendida bellissimo anche con le parti argentate un capolavoro anche la confezione stessa veramente spettacolo davvero comunque lo mettiamo da parte chissà se è ancora disponibile forse l'acquistino per me lo faccio perché è veramente tanta roba ma andiamo a prendere l'altro pacco che pesa veramente tanto quindi dovrebbe essere bello carico di roba andiamolo a spacchettare insieme e vediamo un po cosa si nasconde all'interno o allora fatemelo appoggiare comunque qui altrimenti poi è un casino ok o pesantissimo vediamo un po quali novità si nascondono all'interno e allora ragazzi cominciamo cominciamo col botto questa ragazzi era una figure che in realtà all'inizio era stata cancellata ma poi hanno riconfermato fortunatamente e fortunatamente finalmente la diamond select ha capito come fare le confezioni grandi grandi sono contento finalmente una confezione compatta che non occupa troppo spazio né in magazzino né in una collezione facile da spedire elegante bella finalmente diamond select ha acceso un attimo il cervello e ha imparato a fare le confezioni stiamo parlando comunque di jack sparrow ragazzi in realtà forse il personaggio più amato interpretato da johnny depp e ragazzi finalmente lo abbiamo in versione figure da diamond select ad un prezzo come sempre contenutissimo splendida confezione finalmente mi ricordano tanto le confezioni delle play arts le prime play arts della square enix quelle di final fantasy continuando ancora ragazzi allora allora cosa abbiamo qui oh e questa è un'altra chicca un altro pezzo da 90 ragazzi questo me l'ero dimenticato ragazzi abbiamo un'altra figure della aniplex cioè edward eric da full metal alchemist uno dei miei manga e anime preferiti di sempre mi raccomando full metal alchemist brotherhood come anime se lo dovete vedere spettacolo ragazzi questa non vedo l'ora di recensirla insieme anche naturalmente a jack sparrow a proposito fatemi sapere se volete la recensione di uno di questi pezzi fatemi sapere diciamo quale volete per primo nel caso per il resto per il resto attenzione perché qui abbiamo una figure di jojo e in particolare joseph joestar con iggy anche il cane ragazzi figata questo qui per la linea medicos ovviamente che sono le uniche figure articolate dedicate a jojo e sono veramente di ottima qualità spero di riuscire a recensire almeno questa continuando ancora ragazzi chiaramente come sempre tutto quello che vedrete in questo video lo trovate disponibile nel mio sito arashop che trovate qui sotto nella descrizione del video adesso abbiamo questo ragazzi questo è un arrivo che in tanti aspettavano e me medesimo aspettava veramente tanto stiamo parlando dell'ispettore gadget ragazzi dell'ispettore gadget questa figure realizzata da five pro studio questa ditta che sembra sapere il fatto suo perché ragazzi ho visto un po di immagini in anteprima di questa figure e sembra veramente pazzesca sembra veramente pazzesca questa è la versione deluxe con tutti gli accessori piena zeppa di roba qui sul retro si può vedere un po spettacolo allucinante questa non vedo l'ora di metterla in collezione e non toglierla mai più perché è uno dei personaggi iconici diciamo della mia infanzia e ora ragazzi abbiamo un ultimo pacco che riguarda sempre l'ispettore gadget un'ultima confezione volevo dire un ultimo arrivo ovvero questo che ragazzi io non pensavo fosse così ed è una figata allucinante di cosa si tratta questo è il set deluxe che contiene non solo l'ispettore gadget con tutti i suoi accessori e tutto il resto ma contiene anche gli altri ragazzi tutti gli altri personaggi per comporre questo spettacolare set che ragazzi fidatevi di me tra un po di tempo sparirà dalla circolazione e raggiungerà un valore valore estremo secondo me come prezzo perché è una chicca di nicchia ancora più di nicchia del solito e ragazzi dovete prenderlo se siete interessati a questo dovete prenderlo se prima non me lo prendo io perché mi è arrivata solo una copia capiamo capiamo un attimo vediamo se lo metterò sul sito no comunque questo è veramente il top del top il top del top veramente spettacolo poi si può fare tipo il mini diorama con la scenetta con diciamo il terreno la strada i cespugli e tutti i personaggi bellissimo ragazzi bellissimo omaggio a questa serie storica diciamo della nostra infanzia comunque ragazzi l'unboxing di oggi finisce qui come avete visto sono arrivate un po di chicche non tantissime però di livello di livello fatemi sapere appunto se volete la recensione di uno di questi pezzi con un commento qui sotto il like al video sempre caritissimo così come anche la condivisione se voleste acquistare qualcosa c'è il mio sito ara shop che trovate qui sotto nella descrizione del video ricordatevi che c'è la nuovissima promozione per chi prende 10 figure ogni mese ne avrà una in regalo non so se mi sono spiegato comunque io vi ringrazio come sempre per la visione noi ci vediamo alla prossima ciao da ara e collezionate sempre